Buongiorno a tutti da Andrea della Salle di Brescia, vi mostrerò oggi il risultato dell'installazione del retrofit della retrocamera su Mercedes classe B V246 dotata di sistema NTG5. All'inserimento della retromarcia commuteremo sulla telecamera posteriore che abbiamo installato tramite apposita interfaccia. Le linee guida sono dinamiche sterzanti, permettono quindi un'integrazione totale, come se la vettura quasi fosse arrivata di fabbrica con questo sistema. Ovviamente togliendo la retromarcia il sistema tornerà sulla schermata originale Mercedes. Questo sistema è inoltre compatibile con classe AV176 e CLA della stessa serie. Se anche voi avete una vettura sprovvista di questo retrofit e vi interessa integrarlo, non esitate a contattarci. Io sono Andrea della Salle di Brescia, il nostro sito è saicarshop.it e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale di YouTube per rimanere sempre aggiornati sulle nostre installazioni. Un saluto a tutti e alla prossima!